Pandino cosa fa? A Pandino piace muoversi e imitare le forme. Vuoi giocare con lui? Alza le mani e allungati bene verso l'alto. Pandino cosa fa? La mossa del tulipano. Ancora con le braccia in su, piega i fianchi da una parte, poi dall'altra. Pandino cosa fa? La mossa della banana. Allarga le braccia, alza una gamba e gira gira gira. Pandino cosa fa? La mossa della trottola. Sdraiati a pancia in giù. Solleva le braccia e le gambe e wow! Pandino cosa fa? La mossa dell'aereo. Siediti a terra, stringi le ginocchia al petto e uscilla da una parte all'altra. Pandino cosa fa? La mossa della polpetta di riso. Alzati in piedi, poi piega le ginocchia fino a terra. 3, 2, 1. Ultima mossa. Piegati bene in avanti arrotolando la schiena e fai una capriola. Pandino cosa fa? La palla che rotola. Rotola, rotola e non si ferma più. Tutto a posto, mamma panda l'ha acchiappato. Adesso è ora di riposarsi.